Approfittiamo di questi minuti che ci sono avanzati perché ci sono anche le sorprese in casa Oduitalia. Dunque, durante la fase organizzativa degli Odu Days 2020 abbiamo lanciato l'iniziativa delle nomination per premiare i membri della community che si sono particolarmente messi in vista. Abbiamo ricevuto ovviamente un bel po' di segnalazioni per cui non sarà come lo scorso anno, faccio i nomi delle nomination che abbiamo ricevute e poi man mano chiamerò i vincitori. Sì, ma i vincitori cosa vincono? Abbiamo pensato quest'anno di dare come premio ai vincitori la bellissima felpa degli Odu Days 2020 che potrete trovare, insomma il link l'ho pubblicato prima. Non so bene, non so bene. Oh, ripubblichero. Matteo, questo qua è un piccolo ruolo, grazie. E' interferenza dalla regia. Dunque, passiamo alle nomination. Abbiamo ricevuto come nominativi potenzialmente, diciamo, meritevoli Comba, Terzulli, Fichera, Bilotta, Baggio, Camilli, Zanchetta, Urselli, Rubino e Tinaro. Ora, uno di loro, uno di loro, anzi tre di loro, riceveranno la felpa, per cui io parto con il mio nominativo che è stato, è stato il primo, diciamo, membro della comunità meritevole, diciamo, di questa onoreficenza, è Vincenzo Terzulli, il quale, lo prego poi, di mettersi in contatto con me per darmi gli estremi, anzi la taglia della felpa, in maniera tale poi da fargli arrivare direttamente a casa. Insomma, quest'anno, a differenza dello scorso, non ci sono, diciamo, categorie in cui premiare i membri, ma abbiamo deciso di mettere tutte le nomination a lo stesso livello per cui sono stati premiati i membri che, in qualche modo, hanno dato un contributo importante per quella che è la nostra, la nostra associazione. Per cui, Vincenzo è il primo a ricevere la felpa, vi faccio, ovviamente, un applauso virtuale. Gli altri, vi saprete, man mano, andando avanti e seguendo questa, questa giornata, queste due giornate, anzi. Per cui, adesso, insomma, abbiamo qualche minuto di break e ci rivediamo alle 12 e 30. Vediamo un attimo la timetable che abbiamo a disposizione con Matteo Boscolo che ci parlerà di Odu PLN. 12 e 30 in punto, facciamo una piccola pausa, a dopo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.